Nessuna sorpresa nell'ultimo turno dell'anno nel campionato di Serie C Gold, fattore campo quasi sempre rispettato con l'unica eccezione di nuovo Matteo Ticorato, corsare ad Altamura in una gara che la vedeva comunque favorita. Per il resto invece solo vittore Casalinghe a cominciare da quella della capolista Sveva Lucera che si aggiudica il derby foggiano contro Vieste per 112 a 75 con ben 35 punti di Wandi e 26 di Dianni, un KO messo tuttavia in preventivo dalla squadra di Coach Rubino che sta apportando ancora qualche correttivo al roster. Lucera sale così a quota 22 punti ma il terzetto delle inseguitrici non molla ed è a quattro lunghezze. Più facile del previsto il successo di Adria Bari su Dinamo Brindisi, i ragazzi di Coach Cazzorla si impongono per 95 a 66 spedendo in doppia cifra 5 uomini su tutti Callara con 22 punti, un esito che allontana la squadra di Cristofaro dalla seconda posizione dove restano ancorati sia pur in coabitazione con Adria. Mola, New Basket 2012 è nuova la canestro Monteroni. Il collettivo di Coach Castelletto fa suo il testa coda con New JT Trani per 90 a 56 totalizzando 46 punti fra Amigo e Dilascio, scarto di poco inferiore a Monteroni dove la compagine di Marra regola New Virtus Mesagne per 91 a 67, Ranitovic ne fa 30 per gli ospiti ma 6 fra i giocatori di casa segnano dei 10 punti in su. A quota 14 in graduatoria salgono intanto Virtus Molfetta 89 a 56 su Valentino Castellaneta con 27 punti di Brown e 21 di Kaslauskas e nuova Matteotti Corato che passa ad Altamura per 92 a 64 con quasi 50 punti complessivi fra Razic e Paul Ascas. Sarà proprio Corato infine a fronteggiare la battistrada lucera alla ripresa del campionato prevista subito dopo l'Epifania.